8 gennaio 2021, 5 del mattino circa. Un boato obbliga a un risveglio terrorizzato i residenti di Ponticelli. Un crollo improvviso ha fatto sprofondare di diversi metri una porzione del parcheggio dell'ospedale del mare. Mesi e mesi di indagini con una maxiperizia che ha sottigliato il numero di indagati passati da 21 a 3. Ora l'ufficializzazione di quanto deciso dalla procura di Napoli. Per i due progettisti e per il collaudatore dell'opera sono stati disposti ulteriori approfondimenti allo scopo di delineare le eventuali responsabilità nell'avoragine che si era aperta fuori il presidio sanitario. Nessun ferito in quell'occasione ma si era trattato in una purissima coincidenza perché, come ricordiamo, solo pochi giorni prima una grande iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione alle regole anti-covid aveva avuto luogo proprio nell'area interessata dal cedimento, iniziativa che aveva visto la partecipazione di numerose scolarische. Crollo colposo è l'accusa per i due progettisti dell'opera, Carmine Mascolo e Biagio De Risi, e per il suo collaudatore, Edoardo Cosenza, docente universitario da un anno e mezzo assessore all'infrastruttura, alla mobilità e alla protezione civile dell'Aggiunta Manfredi. I legali dei tre professionisti si sono detti convinti di poter dimostrare la correttezza della condotta dei propri assistiti. Ad attendere gli sviluppi del procedimento i vertici dell'ASL Napoli 1, per la procura la parte lesa del crollo che si è verificato all'interno del parcheggio dell'ultimo grande ospedale costruito in Campania.